Noi abbiamo scelto di entrare nell'euro, nessuno ci ha obbligato ad entrare nell'euro, è stata una decisione che ha preso l'Italia. No, i politici italiani. Io non l'ho presa, l'ha presa Ciampi, l'ha presa Prodi e vaffanculo, Ciampi e Prodi, vaffanculo, non l'ho presa io. Non l'abbiamo presa, non c'è stato un referendum, non è che sentiamo che l'ho presa io, io nel Parlamento non ho votato nulla, l'ha presa Ciampi e l'ha presa Prodi. Gli italiani hanno avuto tempo. Mi hanno fatto un referendum forse, ma che cazzo dici? Gli sgardi, dai, Gli sgardi, dai, Gli sgardi, dai, Vittorio però, sono due, un banchiere che guadagna, Gli sgardi, ma l'abbiamo capito, 50 milioni al mese, sono italiano e non mi rispecchio della sua ricostruzione, ho capito ma però me la fai sentire, me la fai sentire però, sono italiano no.